Allora, alzati! Non vale fare i cargalismi, bisogna parlare forte e chiaro e dovrai partire mimando la scena madre di un film poliziesco in cui il poliziotto arresta il cattivo. Via! Tu sei il poliziotto! Vai! È scappato! Mamma! Mamma a sparare! Spari o non spari? Spari o no? Mi dichiari nel resto? Mamma a sparare!